Altra tematica che mi riguarda in prima persona, le offese alle forze dell'ordine. Io penso che la Meloni ha detto una cosa giusta, poi Meloni può piacere, non piacere, io sono apolitico, quello che faccio ovviamente non... io porto rispetto agli esponenti del governo, tutti quelli che abbia avuto, però io sono apolitico, per cui non sono né un pro Meloni, né un destra, sinistra, centro, niente. Però ha detto una cosa giusta, il lavoro dei poliziotti quando sbagliano è come dice la nostra Costituzione, e come dice la nostra legge, poi va sanzionato, quindi ma è certamente tutto. Però fare di tutta l'erba un fascio, questo lo dico prima persona perché anche verso di me, ho ricevuto comunque commenti sempre su YouTube, però dalla gente che sa cosa faccio, molto particolari. Anche lì secondo me bisogna mettere un freno, bisogna mettere veramente un muro e dire occhio che... stiamo attenti a come parliamo, cioè educazione in primis. Allora amici, volevo dire che io... io faccio lo YouTuber quando sono libero, perché è la mia passione, ho sempre avuto la passione di... dell'editor, di montare i video, è diventato un secondo lavoro, tra virgolette, e sono contento di questo. Però quando affronto tematiche importanti come la guerra, Russia-Ucraina, Israele-Gazza, tematiche così importanti, come mai questi pseudo-filoputiniani o quello che vogliamo devono poi andare nel personale delle altre persone offendendoli, in questo caso parlo di me. Nei miei tre canali io raramente tratto infatti questi temi, perché poi so che la gente ignorante, che non so perché definisce Putin in questo caso quello che non è assolutamente, cioè che la Russia è palese, che non è una democrazia, poi si va a inferire nelle persone, a attaccare persone e persone, è una cosa che non tollerano, non accetterò mai.